Sono passati poco più di dieci mesi dal ritrovamento dei corpi fatti a pezzi dei coniugi Pascio, occultati in quattro valigie e lasciati tra la Fipili e il caccere di Sollicciano. In questo lasso di tempo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio erano stati iscritti Taulant Pascio, il figlio di Spetim e Teuta, la fidanzata Elona Calescia e il suo fratello Dennis. Ma oggi il quadro è cambiato. Indagata arresta solo Elona Calescia. Il pubblico ministero Ornella Galeotti, incaricata di seguire le indagini, ha chiesto giorni fa l'archiviazione delle accuse a carico di Taulant e più recentemente anche quelle a carico di Dennis. In caccere resta dunque solo Elona, seguita dai difensori Federico Febbo e Antonio Dorzi, che a più riprese hanno chiesto i domiciliari per la loro assistita senza riuscirci. Non c'è nessuna sorpresa, ha detto l'avvocato Febbo. Aspettiamo che venga fissata l'udienza preliminare. Davanti al gruppo ricostruiremo la vicenda alla luce dell'esclusione dell'ex compagno e del fratello.